Galeotto fu il consorzio perché la nomina vicepresidente dell'Assi di Martina Landolfa, nominativo indicato dal sindaco Antonello Denuzio, ha inclinato i giallabili rapporti tra il Partito Democratico e l'amministrazione. Il PD francavillese, eppure all'opposizione, aveva da tempo sotterrato l'ascia di guerra. Ora però torna alla carica, criticando l'azione amministrativa del governo cittadino guidato dal sindaco, ritenuto addirittura ostaggio della sua stessa maggioranza. Nel frattempo resta vacante la poltrona di assessore, dopo le dimissioni di Antonio Martina. La trattativa con il Movimento 5 Stelle è in consiglio rappresentato da Giuseppe Ricchiuti in una fase di stallo che in qualche modo dovrà essere superato. D'altro canto, tra le deleghe rimaste senza guida, c'è anche quella dell'ambiente. Ed è sempre il PD a ricordare come del nuovo contratto sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, cavallo di battaglia in campagna elettorale, non si hanno più notizie. Non è dato a conoscere lo stato dell'arte né della procedura di gara e si va di proroga in proroga a favore della società Monteco, pur essendo sotto gli occhi di tutti che la città è sporca. Ed è sempre il PD a lanciare un appello alle forze di centrosinistra per avviare un dibattito interno nella prospettiva di un governo cittadino progressista distante dalle destre populiste. Insomma, è già campagna elettorale.